Elisabetta Canalis parla del nuovo compagno e della separazione dal marito, non mi aspettavo andasse così. La modella ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Carey e della relazione con il campione mondiale di kickboxing Georgian Sempino. Elisabetta Canalis si è raccontata molto intimamente nell'intervista al settimanale Grazia che le ha dedicato la copertina. La modella, ex storica velina di striscia la notizia, ha parlato per la prima volta della separazione dal marito Brian Carey con cui ha conservato ottimi rapporti per il benessere della loro figlia Skyler di otto anni. Ma non solo, perché nel corso dell'intervista Canalis ha accennato anche alla sua attuale relazione con il campione mondiale di kickboxing Georgian Sempino, descritto come una persona che sa starle accanto e darle molta serenità. Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri. Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati, ha detto la 45enne sarda parlando del chirurgo americano con cui è stata sposata per 10 anni. E ancora, se guardo indietro, a quando mi sono sposata non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo, ha ammesso. Non toglierai mai un papà come Brian a mia figlia. Elisabetta Canalis vive a Los Angeles. E anche dopo la separazione, non tornerà a vivere in Italia con la figlia. Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia, ha spiegato. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un'esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d'accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne. L'amore per il nuovo compagno. Qualche mese fa sono state pubblicate le foto che hanno indicato Giorgian Cimpeano come il nuovo compagno. Su di lui oggi Canalis ha affermato, posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare alla big picture, il quadro generale, per credere nel futuro. A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli ha poi commentato in merito alla sua esperienza e alla visione generale che riguarda il matrimonio e le donne. Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d'accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita. Infine, tante volte la vita ci mette di fronte ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. E il cambiamento può essere positivo, non solo sintomo di incertezza e paura. Ha aggiunto, non si deve dare spazio all'idea del fallimento, ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.